premio bacco 2024 il cavaliere massimo mannozzi senza il quale questo premio non sarebbe mai nato non ci sarebbe mai stato entusiasmo siamo al trentesimo anno cavaliere mannozzi e la faccio con la salute bruciamo le dita io ho 83 anni che porto molto bene mi sento molto bene soltanto non si sa mai io vorrei continuare ancora perché un'altra è una cosa una serata eccezionale che non si può dimenticare anche per chi vi è il bel mondo di berlino e più gli italiani e tutti i critici italiani che hanno creato questo premio con me che che anno era massimo quando è stato creato 93 è vero intorno a un tavolino eravate no degli amici sono reperti storici perché al tavolo dei dei critici dei italiani dove tutte le sere venivano nel mio ristorante a mangiare abbiamo fatto questo questo contratto non è un contratto è proprio una scritta cosa doveva essere il premio bacco e a chiedarlo ecco il regolamento allora regolamento con tutte le firme di di trionfera di mie che trovano questo era questa critici critici cinematografici si tonino pinto claudio ma tutti erano tutti i più grandi di tutte le razze nelle tipologie politiche erano lo stesso tavolo quest'uomo che dovrà ancora andare avanti per altri 30 facciamo la promessa 30 10 10 diamoci un numero 8 7 8 amici mi raccomando arriveremo la 30 settesima edizione del premio bacco alla trentesima ci siamo arrivati c'è anche luciano nelli qui insieme a noi dai che ci dobbiamo fare un in bocca al lupo ma non usiamo la parola che si usa in teatro vuoi dire in no non la diciamo neanche in tedesco facciamoci un bel in bocca al lupo per la grande serata di stasera premio bacco 2024 devo fare devo fare veramente i complimenti a questo signore a questo cavaliere veramente per tante belle cose per tutto quello che ha creato in questi 30 anni e questi il trentesimo notte delle stelle premio bacco tante cose potrei raccontarvi di lui una di queste è che lui è considerato anche qui in germania veramente un'istituzione sotto l'aspetto anche del prestigio delle cose e io devo dire ne sono orgoglioso che l'ho sperimentato con persone quindi sono orgoglioso di essere sia un grande collaboratore ma anche un grande amico massimo grazie ehi che grazie